Chi incontra e vede Gesù, vede e ama anche dove Gesù si incarna. Lasciamoci educare da Gesù e dalla Chiesa allo sguardo di Gesù. Come Gesù guarda la vita, come Gesù guarda il mondo, come Gesù guarda la realtà. Per questo Gesù, dopo aver fatto vedere ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, il suo volto luminoso sul tabor, che lui è Dio e che la meta della vita è la risurrezione, lo splendore, la bellezza, chiede loro di scendere dal monte per continuare a vivere la compagnia con lui. Perché la compagnia con Gesù è una cosa che, se non ha una continuità, se non investe la realtà, allora si perde la luce e allora si brancola di qua e di là. Ecco, di che cosa abbiamo bisogno oggi veramente per vivere, per vivere bene? Abbiamo bisogno di incontrare, di vedere colui che può tutto. Ci sono tanti salvatori della patria, mi pare, di sentire, no? Ma il salvatore è uno solo. E allora anticipo l'augurio che volevo farvi alla fine. Oggi è possibile sulla terra conoscere Dio, incontrare il volto bello di Dio, Gesù. Gesù nella Eucaristia, Gesù nella Confessione, Gesù nella vita di comunità, Gesù nel prossimo.